gentilissimi telespettatori ben ritrovati e ci troviamo a santo femmia alla mezzia terme per la presentazione del team per la programmazione 2021 2022 su stv ci troviamo a distanza di qualche mese perché durante l'estate non ci siamo fermati però adesso comincia veramente il lavoro duro che da qui in avanti noi faremo con nostro meraviglioso team io non mi perdo in ciacere vi comincio a presentare sicuramente chi ancora con me condurrà le trasmissioni io mi ricordo domenica speciale non può essere che lei la nostra splendida meravigliosa claudia benvenuta allora buongiorno a tutti ben ritrovati cari amici di stv io sono molto emozionata per ripartire perché sento comunque un'area nuova un'area un po più positiva non so voi però noi staff di stv al completo siamo molto positive vogliamo cominciare questo 2021 e continuare il 2022 alla grande come sempre avremo veri tantissimi format che comunque abbiamo già ideato negli anni passati come per esempio sanremo calabrese e altri che non vi anticipiamo perché ci saranno tante novità continuiamo a presentare quindi il team perché comunque ci sono anche delle new entry che sicuramente comunque insieme a noi insieme alla famiglia di stv sapranno alietarvi perfetto la nostra claudia già vi ha dato un'anteprima e noi stiamo sognando sognando a tal punto che la location che ci ospita pensate si chiama hotel sogni d'oro e si trova in santo femmina la mezza terme e per la qualcosa noi ringraziamo il signor stefano grandissimo esposito grandissimo amico della nostra claudia che evidentemente ha deciso di ospitarci insieme al suo meraviglioso staff che ci ha messo a disposizione la sala e quant'altro ci può essere utile per poter portare avanti questa presentazione ma noi non ci perdiamo in cacere e cominciamo a presentarvi chi evidentemente insieme a me a claudia fa parte di questo splendido team e a sinistra di claudia non ci può essere che lui il nostro magico maestro gianni briglio benvenuto maestro ci ritroviamo e mi fa piacere ritrovarvi e di contribuire in qualche modo alla realizzazione di tante belle cose perché claudia parlava di format chiaramente quelli che abbiamo già presentato in passato abbiamo quelle dedicate alle mamme ai papà la canzone napoletana quindi il piatto è proprio ricco quindi poche parole ma siamo pronti per affrontare la nuova stagione 21 22 restiamo sulla fascia sinistra per dirla in gergo calcistico e presentiamo la nostra altrettanto magica chiara palaia benvenuta chiara grazie renato ciao a tutti sono davvero contentissima di essere presente anche quest'anno e ringrazio renato per avermi voluto nuovamente nel suo team e sono prontissima per questa nuova stagione televisiva e niente quindi ci saranno come hanno anticipato i miei colleghi ci saranno tantissime novità quindi mi raccomando seguiteci come sempre perché c'era sempre tanto divertimento tanta anche cultura e quindi tanto spessore davvero televisivo e quindi seguiteci e ovviamente io e curerò sempre la parte musicale e tra l'altro in questi giorni è uscito anche il mio secondo singolo che non vedo l'ora di fare ascoltare anche anche a voi sono davvero onorata di questo quindi saremmo davvero felici se sarete in nostra compagnia anche quest'anno grazie grazie alla nostra giara in bocca al lupo per questo singolo e per chiudere sulla fascia sinistra non può essere che lui il nostro maestro fortunato curce eccolo lì in pole position vai fortunato grazie e un ciao a tutti a tutti voi bene dopo questa breve pausa che abbiamo fatto è giusto che pensiamo al futuro il futuro è 21 22 e sono molto felice di essere presente anche la mia presenza di essere a domenica speciale come conduzione di renato grandinette e claudia e ne sono felice beh che posso dire seguiteci sempre perché ogni domenica ci saranno delle sorprese quindi io sono anch'io curioso perché non so effettivamente cosa ci sta in mezzo però la curiosità fa sempre bene quindi fate così ogni domenica prendete il telecomando e sintonizzatevi stv grazie 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 a te maestro fortunato che evidentemente ha anticipato anche qualcosina senza dire nient'altro perché le sorprese non le diciamo se no che sorprese sono e io passo sulla fascia destra rimanendo sempre nel gergo calcistico per presentarvi non so più come presentarla come cuoca come cantante come mamma veramente meravigliosa non può essere che lei la nostra rosita caparrotta ben rientrata rosita buon pomeriggio a voi tutti e buon pomeriggio anche ai nostri dalle spettatori sono nuovamente qua e ne sono felicissima e niente riniziamo questa avventura sicuramente bellissima con tante novità come hanno detto pure gli altri e lo ripeto anch'io quindi noi vi aspettiamo veramente numerosi tutte le domeniche lì incollati per vedere tutto ciò che ci sarà e quindi niente ringrazio tutti coloro che ci vorranno essere c'è una piccola novità quando io probabilmente non ci sarò ci sarà una mia collega assunta conte che la salutiamo e mandiamo anche un bacio a lei e e niente dai iniziamo di nuovo quest'anno 2021 e 2022 vi aspettiamo bene ci aggreghiamo i saluti per questa amica della nostra rosita la signora assunta che evidentemente sarà con noi quando rosita sarà impegnata in altri campi e noi continuiamo con le new entry ve li aveva anticipata la nostra meravigliosa claudia è uno di questi sicuramente che voi tutti conoscerete è il nostro maestro tiziano barberio che è qui con noi tiziano benvenute grazie ciao renato buon pomeriggio renato buon pomeriggio a claudio buon pomeriggio a tutti gli amici che oggi si trovano qui in questa conferenza stampa cioè io sono onorato e felice di poter dare una mano ai tuoi format e alle tue trasmissioni bellissime trasmissioni seguite chiaramente da un pubblico vastissimo e niente le mie il mio aiuto potrà essere quello dell'audio musicale e fare qualcosa in musica va bene vi auguro veramente una buona visione di tutti questi bellissimi programmi che renato ha già preparato per voi è una buona visione a tutti gli amici che ci ascoltano grazie bene grazie al nostro maestro che ha parlato di audio musicale ma non sarà solo questo perché anche lui ha delle sorprese in servo e queste qualcuna magari la anticiperà da qui a non molto dulcis in fundo con il nostro daniele sgro l'avete conosciuto in qualche nostra trammissione e lui quest'anno farà parte del nostro team benvenuto anche a te daniele buon pomeriggio per me è un onore essere qui a far parte di questo team meraviglioso di questa famiglia perché io la definisco una famiglia questa di stv e io entro in punta di piedi nel senso che non non so ancora quello che ci aspetta e quello che ci aspetterà però invito i telespettatori a seguirci perché non ve ne pentirete da parte mia ci saranno solamente sorprese quindi seguiteci perché se no le sorprese non le potete vedere grazie buon pomeriggio perfetto allora vi abbiamo presentato il team in toto e adesso cominciamo a parlare di quelli che possono essere i format che evidentemente voi telespettatori potrete seguire da qui in avanti su stv sui canali regionali e sugli altri provinciali e locali che ormai conoscete a memoria intanto claudia parliamo un attimino di questi due che ormai sono storici e domenica speciale io mi ricordo prego allora con io mi ricordo noi abbiamo il piacere comunque anzi il nostro renato ogni tanto anch'io vengo a trovarlo di comunque presentare la vita degli artisti dei nostri compesani comunque di tutti in generale è un lavoro svolto è un duro lavoro svolto durante il corso di tutta la settimana perché renato e tutto lo staff di stv è molto preciso poi nel montaggio nella ricerca nelle fotografie nello scavare nel passato di questi personaggi la domenica speciale è una domenica in festa una domenica che comunque si sta innovando ci saranno tante novità e comunque noi vogliamo divertirvi perché alla fine quello che noi facciamo col cuore per voi è quello di divertirvi ovviamente come abbiamo detto sempre come diciamo sempre tutto lo staff di stv vi vuole invitare perché tutti siete invitati a partecipare a questa domenica speciale la domenica speciale è un momento dove chiunque abbia un talento ma anche qualcosa da dire sempre in maniera rispettosa lo può fare perché le nostre porte sono aperte quindi vi raccomando vogliamo vedervi più partecipi perché stv è la televisione la metina e oltre a essere la televisione la metina è anche una televisione comunque regionale in tutta la calabria quindi facciamoci sentire se abbiamo qualche idea se abbiamo qualche proposta se comunque abbiamo un pensiero da esporre in maniera sempre educata e rispettosa le nostre porte io sono disponibile Renato è disponibile quindi prego noi siamo qui e vi vogliamo coinvolgere il più possibile in questo nostro format però ce ne sono altri mio caro Renato vero? Assolutamente ne parliamo se non prima di aver mandato anche un affettuoso saluto all'avvocato Renato Giuliano che sarà con noi di tanto in tanto così come l'è stata l'anno scorso a partecipare a quelli che sono i nostri format sicuramente sarà con noi anche la nostra Jenny assolutamente sì che salutiamo e speriamo di rivedere presto allora torniamo al nostro maestro Gianni Briglio che evidentemente riproporrà anche quest'anno quelli che sono i format da lui creati e quindi vogliamo sapere in anteprima se manteniamo quegli stessi format se ce ne sarà qualcun altro o nuovo lascio a te la parola Gianni prego beh in linea di massima sono quelli che abbiamo già proposto in passato che hanno avuto un riscontro abbastanza positivo notevole parlo per primo quello dedicato alle mamme sicuramente lo faremo nel periodo della festa delle mamme per quanto riguarda il papà la stessa cosa un programma dedicato a loro ai papà e quindi faremo nel periodo giusto nel mese di marzo presumo il 19 di marzo della festa di San Giuseppe la festa del papà per quanto riguarda invece la canzone napoletana la possiamo inserire in qualsiasi momento perché è il format che viene acclamato da tutti perché la canzone napoletana piace un po' a tutti ultimamente abbiamo proposto il white singer che è una rassegna dedicata ai giovani talenti gli artisti nostri che per fortuna ce ne sono tanti e hanno bisogno di andare avanti e essere messi in luce proporre la nuova musica poi è chiaro che la nuova generazione fa delle proposte abbastanza mirate vanno diciamo per quanto riguarda l'attualità della della musica di oggi ce ne sono tanti e quindi i giovani i nostri giovani si ispirano a queste nuove tendenze però volevo dire che hanno fatto degli esperimenti con i giovani e meno giovani diciamo no vedi orietta berti che ha collaborato con questi nostri artisti che hanno una loro valenza una loro nuova proposta musicale quindi diciamo che questi format che abbiamo menzionato sono a favore di giovani e meno giovani perché se parliamo dei papà e poi non ti nascondo Renato che io in serbo qualcosa anche per i nonni quindi preparati caro Renato perché la prossima performance sarà la tua inizierai tu con il festival dei nonni devo trovare il la claudia ride e non ho capito perché però Renato è un nonno e quindi anch'io lo sono quindi parteciperò anch'io detto questo Renato queste sono le cose essenziali diciamo di quello che abbiamo fatto in passato sono dei format con dei nomi del come dire sono registrati i nostri format quindi sono delle cose collaudate già in passato i format realizzati dal nostro maestro sono garantiti di successo e quindi sicuramente tutto quanto il team li accetta e li gradisce per come verranno presentati però torniamo a quelli che invece sono stati i format del passato che noi abbiamo consolidato nel tempo e che sono sicuramente i due gran galà cara claudia il gran galà di pasqua il gran galà di natale e quindi anche questi sono confermati esatto e poi vedremo delle belle perché io quest'estate ti sono andata comunque oltre il mio nido tu lo sai ho fatto altre eventi ho conosciuto delle modelle bellissime delle giovanissime quindi ci saranno tante chicche perché avremo anche tante sfilate che ovviamente comunque ci ritroveremo in studio care amiche nostre e tante sorprese e tanti nuovi volti vi stiamo dicendo molte ma molte situazioni che andiamo a creare da qui in avanti però è anche giusto perché i nostri telespettatori ci stanno già fermando da un po' di tempo per chiederci ma quando ricominciate ma quando riprendete e tutto questo è semplicemente meraviglioso perché evidentemente manchiamo a chi ci guarda da casa e quindi ci stanno aspettando così come stanno aspettando quelli che sono i format dell'anno scorso che abbiamo organizzato insieme sempre a claudia che sono il sanremo calabrese e la sai l'ultima calabrese esatto infatti lì abbiamo visto anche il protagonista il nostro daniele in arte davide se ci ricordiamo e noi riproporremo questi format perché comunque l'anno scorso hanno avuto successo sono stati sia criticati che comunque apprezzati e come sempre la critica ci sta perché alla fine le persone non possono avere tutti lo stesso giudizio l'importante per noi mio cadore nato è che noi facciamo sempre le cose in maniera molto pulita e rispettosa nei confronti di tutti quindi anche quest'anno sarà riproposta la seconda edizione dei nostri format passati assolutamente sì prima di chiudere con quello che sarà il format che noi stiamo organizzando in un modo veramente eccellente ve ne parlerò da qui a poco vorrei sentire la nostra rosita che evidentemente quest'anno con la cucina dovrà ritenere importante il fatto che claudia è rimasta secco per un bel po di tempo e quindi me lo diceva rena io senza rosita non riesco facci capire cosa stai preparando di bello infatti si vede perché è dimagrita veramente tantissimo è sciupatissima e niente sicuramente gli farò un bellissimo dolce perché è così almeno la diamo all'ingrassaggio un po' no e quindi niente adesso elaboriamo in questa settimana per vedere tutto ciò che dobbiamo preparare nelle prossime domeniche no piano piano lo scoprirete mica lo posso dire adesso se non scopriamo tutto che facciamo dobbiamo dare anche un po di suspense alle persone no l'acquolino poi in bocca voglio dire ci sta pure però io volevo sapere una cosa dal maestro gianni briglio spero che l'edizione dei nonni possa essere dopo dicembre così magari posso partecipare anch'io o che bello ci sta anticipando che diventerà nonna maestro quindi lo devi fare assolutamente in quel periodo mi ha confermato siamo io tu il maestro briglio e tu sei pure nonno giusto ecco chi non ha speranza è claudia che ancora non ha fatto troppo giovane non la possiamo scherziamo mettiamola così rosita non si vuole scoprire più di tanto quindi aspettiamo questi pranzetti che preparerà per la nostra domenica speciale e non solo voi avete già svelato un bel po di cose sì 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 no devi mantenere hai fatto hai fatto perfettamente bene a non dire altro però altro lo dobbiamo dire invece con il nostro maestro tiziano che prima si era un po ottenuto sulle sue per dire io sono solo qui per quanto riguarda audio musicale no anche lui sta preparando dei format che vorrei anticipasse almeno in una minima parte dai maestro sì benissimo oltre alla collaborazione musicale chiaramente quella è scontata e stiamo cercando di creare dei nuovi format in delle location esterne in cui già abbiamo stilato una una bella lista e dove proporremo veramente dei nuovi spettacoli per per la tv con ospiti particolari e con eventi particolari non vi vogliamo chiaramente svelare nulla perché tutto ancora in fase embrionale e quindi avrete veramente da deliziarvi poi con l'avvenuta come si dice trasmissione ok grazie grazie al nostro maestro avete visto quanto carne al fuoco senza far riferimento a rosita sicuramente e allora io direi intanto al nostro daniele che dice che è lui è l'ultima arrivati in questo team cosa ci stai preparando vuoi anticipare tu qualcosa oppure preferisci tenerti anche tu sullo e top secret e top secret lui non si scopre non si scopre non dico niente dovete seguirci se no non ci seguono benissimo qualcosa poi la gente non ci segue da casa va bene anche grazie al nostro daniele esatto esatto ci dobbiamo socializzare su facebook instagram dobbiamo essere più social i nostri telespettatori saranno potranno interagire con noi più volte durante le puntate esatto esatto sto preparando qualcosina per interagire non abbiamo dubbi sulla tua professionalità e sul tuo modo di portare avanti questa tua collaborazione in questo meraviglioso team e io giudo con quella che è la cosa più bella secondo me che stiamo preparando ci stiamo lavorando veramente da un bel po sto parlando di sanremo sanremo 2022 sperando che questa pandemia possa essere superata finalmente lo stiamo organizzando in un modo che piacerà perché torneremo forse dieci anni e nel 2011 mi pare che avevamo organizzato qualcosa di simile e in tutto questo claudia vi potrà già anticipare qualcosina perché lei si sta dando un gran bel da fare per realizzare il tutto e lo lascio dire proprio a lei allora qui non so cosa possiamo realmente dire diciamo che noi ci stiamo impegnando per passare un sanremo insieme questo lo stiamo organizzando ma insieme proprio fisicamente noi stiamo cercando un attimino di capire se è possibile muoverci per coinvolgervi a chi ovviamente è disponibile lavorativamente parlando e comunque voglia far parte del nostro team perché comunque la televisione ci seguirà sempre e quindi passare un sanremo andare a vedere comunque dal vivo questo grandissimo spettacolo e anche i dintorni i personaggi e gli artisti anche di strada davanti al nostro sanremo giusto e sarà comunque un'esperienza fantastica stiamo organizzando per voi un bel viaggio si può dire così però non vi possiamo anticipare altro va bene così mi sta bene io direi che possiamo chiudere con tutte queste anticipazioni con qualche punto interrogativo che decisamente ci deve anche essere per preparare il tutto al meglio e passiamo ai saluti finali lo facciamo partendo dal maestro fortunato che in fondo bene io vi saluto allora ci vediamo domenica speciale quindi seguiteci ciao a tutti da fortunato grazie grazie al maestro fortunato proseguiamo con i saluti della nostra carissima chiara bene come avete potuto notare ascoltare tutti c'è molta carne al fuoco quindi non vi resta che comunque seguirci se volete saperne di più niente io quello ero io mi ricordo da il formattivo mi ricordo quindi potete trovarmi sempre il sabato pomeriggio e niente quindi mi raccomando restate incollati su stv allora un grazie a te renato e a claudia per questo incontro e sono delle cose bellissime io sono sempre pronto a partecipare perché accrescono cultura la cultura la mia e quella di tutti gli altri e quindi sono delle cose bellissime e sono sempre ben lieto di partecipare e di affrontare una nuova avventura insieme a voi grazie saluto tutti voi telespettatori e non ho niente altro che dirvi vi aspettiamo su stv a domenica speciale vi auguro a tutti una buona visione e ricordatevi che ci saranno veramente un sacco di sorprese ad maiora sempre ciao seguiteci perché ne vedremo delle belle a domenica e io direi di chiudere sicuramente passando alla nostra meravigliosa claudia che sicuramente vi darà un saluto suo particolare per quelli che sono i nostri progetti 2021 2022 vai claudia allora noi quindi li aspettiamo mio caro renato il 30 sabato con io mi ricordo e il 31 con la domenica speciale quindi ci siamo cominciamo questo nuovo anno televisivo insieme come avete potuto sentire tantissimi di noi hanno molte idee noi cerchiamo comunque di divertirci tutti insieme nel rispetto e come abbiamo già detto vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme perché insieme è più bello e che dire mio caro renato io sono contentissima di essere qui insieme a tutto questo grande staff di ripartire alla grande con voi e quindi vi aspetto domenica speciale il 31 di ottobre grazie ci siamo io voglio fare i ringraziamenti intanto a chi ci ospita il signor stefano esposite in questo meraviglioso hotel sogni d'oro dove siamo stati accolti veramente con tanto affetto tanta simpatia speriamo di poter proseguire quelli che sono i nostri format anche in compagnia di questo meraviglioso sponsor e voglio per chiudere mandare un abbraccio forte al nostro magnifico editore francesco santoro che insieme alla direttrice giussicuda ma insieme a tutto lo staff di stv ci supportano ci ci danno una forza da poter portare avanti ormai come stiamo facendo tantissimi anni questi format che vengono seguiti da tutti si lo diciamo perché abbiamo contezza di quante persone stanno aspettando i nostri format quindi ringrazio anche chi di fronte a me il nostro magico regista ci sta riprendendo in piedi lo diciamo perché noi non abbiamo segreti e quindi l'appuntamento è così come vi ha detto la nostra claudia alla 30 di ottobre con la prima io mi ricordo che spero di poter realizzare in un modo carino non vi anticipo di che cosa sto preparando e così poi la domenica speciale che potrete seguire già fin dall'ultimo mese fin dall'ultimo giorno di ottobre il 31 grazie a tutti voi per averci seguito una buona serata a presto rivederci buona serata a presto stv la televisione che ti dà di più